L'annoso problema dei parcheggi a Chieti verrà parzialmente risolto o perlomeno alleggerito con questa creazione di nuovi 35 posti per parcheggiare, strisce bianche, in una zona centrale di Chieti che è il quartiere Santa Maria. Come avete ideato questa svolta? Ma questo è stato un mio pallino sin dall'insediamento, era questa zona e segnatamente questa area era oggetto di un degrado ormai da tanti anni con un distributore in disuso, chiuso e un'area veramente degradata e abbandonata. E allora ho preteso dalla ditta che aveva in concessione, poi la concessione della scaduta, l'italiana petrolio e l'area che abbattesse e bonificasse il distributore e che quindi quest'area potesse essere poi riqualificata. E adesso siamo pronti per dare vita a nuovi 35 stalli in accordo con l'assessore Stefano Rispoli, ci realizzeremo 35 nuovi stalli striscia bianca gratuiti, una parte destinati con il disco orario a favorire il commercio del centro storico cittadino e un'altra parte per i residenti che vorranno appunto sostare della zona appunto con il parcheggio striscia bianca. 35 nuovi posti auto a ridosso del centro storico sono un numero significativo, come abbiamo detto vogliamo risolvere questo problema annoso dei parcheggi sia con la creazione di nuovi microparcheggi e sia con una soluzione strutturale di un megaparcheggio in centro storico che andremo a realizzare prossima. Stiamo parlando di 200 posti auto sotterranei grazie a un finanziamento vinto? Sì, proprio ieri era sul Sole 24 Ore, un articolo dedicato per un progetto veramente molto innovativo che ha messo in campo la nostra amministrazione con il progetto della via dei conventi, qualità dell'abitare, stato finanziato per 15 milioni di euro, quindi un finanziamento molto significativo da parte del ministero preposto e che hanno portato avanti i miei colleghi l'assessore Ristoli, l'assessore Raimondi e il presidente del Consiglio Febbo che darà vita a una realizzazione di un parcheggio sotterraneo a piazza Garibaldi di circa 200 nuovi posti auto e un parco urbano che riqualificherà l'intera zona.